Sesta corsa di Palermo, corsa nazionale in pista ai gentlemen alla guida di indigeni di 4 anni, favorita al gioco il numero 5 Rishire GSM, si va al momento dello stacco, in ritardo il numero 7 Raissa Desi, parte molto forte Rita Disgrey che assume largamente il comando delle operazioni, Rita Disgrey è simia specialista del lancio, va a condurre dunque con Mimmo Termini in sediolo. Il gruppo è abbastanza compatto e comunque sta ricucendo il gap iniziale, si tratta del numero 9 Ruggiade F che è partito molto bene dalla seconda fila e di Ribbo GV con Giancarlo Colombo che si presenta sulla capofila e dovrebbe avere tranquillamente via libera in quanto Rita Disgrey in avanti non corre. Nel frattempo c'è l'errore di Raniamab che viene squalificata. I cavalli che erano fra l'altro tra i più attesti soprattutto Rishire GSM stanno dunque comandando il treno esterno con Rishire GSM che guadagna centimetro su centimetro su Ribbo GV e adesso sta per apparigliarlo completamente. Primo chilometro da 1.16 e mezzo più o meno con Rishire GSM che già prende il sopravvento nei confronti di Ribbo GV che viene scavalcato anche da Ronchis Jet. Adesso sposta Rita Disgrey che a sua volta si porta sul Ribbo GV mentre in avanti c'è l'errore eliminatorio probabilmente di Ronchis Jet. Resta saldissimo e amplissimo battistrada Rishire GSM il favorito della corsa mentre alle sue spalle naturalmente impazza la corsa per la lotta per le piazze. Mentre Rishire GSM va a vincere molto molto bene, rinviene all'esterno Rais Salesi e viene a cogliere il secondo posto nei confronti di Rita Disgrey. Dunque un ordine d'arrivo ben pronosticabile in questa corsa con la vittoria di Rishire GSM, Carmelo Galluzzo in sediolo, Cosimo Cangelosi il trainer. I colori sono quelli della scuderia Cangelosi, buono il tempo che dovrebbe essere qualcosina sotto l'1,15 quindi attorno all'1,14,7 e 1,14,8. Alle piazze Rais Salesi e Rita Disgrey.